Siamo qui con chi non ha paura di fantasmi Esattamente, Ghostbusters Italia, fan club ufficiale Fan club ufficiale, vediamoci al centro Se mi vuoi... E non sai, non avete paura, ma andate a caccia dei fantasmi Esattamente, esattamente Andiamo a caccia dei fantasmi come nel famosissimo film degli anni 80 Con zaini protonici, PKE, Ecto Google e tutto l'equipaggiamento identico al film Ecto Google Facciamo anche la trappola, la trappola Esatto, così facciamo anche vedere la trappola Il famoso strumento in cui viene proprio intrappolato il fantasma L'ecto plasma Esatto Poi lo zaino protonico Un zaino protonico che è costruito tutto da noi Tutto da noi fan comunque In particolare non da poco Zaino protonico con luci e suoni In questo momento adesso lui ha l'interruttore dall'altra parte Che ogni zaino è personalizzato ovviamente a piacere di chi lo usa Le nostre attività sono varie Passiamo dal semplice corso come diventare Ghostbusters Oppure solo far fare le foto agli appassionati In questo caso in questo piccolo stand che abbiamo Con il nostro Stay Poof Il famosissimo Slimer Che tutti quelli che conoscono Ghostbusters Ovviamente non possono non conoscere Slimer Poi ricordiamo dato che quest'anno cade il trentesimo di Ghostbusters Da quando è uscito il film Ghostbusters Quest'anno c'è il Ghostbusters Fest Che è una festa che facciamo noi di Ghostbusters Italia Per due mesi che è partito questa domenica 28 settembre E fino, finché non ci sarà la proiezione di nuovo al cinema del film Ghostbusters Continueranno eventi, serate Diamo dei riferimenti online per vedere questi eventi In modo che uno può anche venire a vederli e a riprendere Esattamente, noi abbiamo il nostro sito che è www.gbitalia.it Che lo si trova lì in fondo Oppure c'è la pagina Facebook Ghostbusters Italia O Twitter Insomma abbiamo tutti i vari social network a disposizione Sempre cercando Ghostbusters Italia Benissimo Regia indugge anche negli altri macchinari Veramente fantastici Realisti reali proprio Avvicinati Cerchiamo di rendere il più possibile Quello che sono questi macchinari Che non sono certo finti Ma sono assolutamente funzionali Esatto, esatto Funzionano Infatti Se avete bisogno di Acchiappa Fantasmi Chiamateci pure Una particolarità Ecco, ecco, ecco Alcuni stanno uscendo Alcuni un po' di ectoplasma esce Giustamente come nel film Quando la trappola è piena C'è la fuoriuscita di fumo ectoplasmico Infatti anche qui c'è Anche qui lo abbiamo Vediamo qui quest'altra arma BKE Che però Esatto Questo non è un prop di nostra produzione Questo è una casa produttrice di giocattoli Che lo crea Abbastanza famosa Non so se posso dirvi il nome Lo dico La Mattel La Mattel Ha fatto una serie particolare La Matti Collector Che diciamo sono collezioni per adulti E ha scelto Ghostbusters Come una di queste varie collezioni Perché giustamente ha un seguito non indifferente Inquadriamo gli occhiali Che vedono al buio i fantasmi Esatto Qui sono gli ectogogl Che ti fanno veramente Ectogogl Ectogogl Esatto Che ti fanno vedere Lo spazio si rinnova No, beh Google è inteso come occhiale Non Google Il motore di ricerca E anche quelli sono della Mattel Una serie della Mattel E anche la Neutrino Che ha in mano il nostro presidente Max E anche quello è un regalo Che ci ha fatto la Mattel Noi facciamo parlare anche il presidente Max Salve a tutti Ecco, questa è la famosa Neutrino Gun E' un attire il suono E' un attimo E niente, noi appunto Come diceva il nostro Clay Sì, questo è Clippard Proprio è la società Che ha concesso di utilizzare la Clippard Anche nel giocattolo Perché nel film Vengono proprio utilizzate queste qui Sono tutti accessori Che gli acchiappafantasmi Per costruire la loro apparecchiatura Utilizzavano E niente, noi appunto Come diceva il nostro Clay Siamo il fan club di Ghostbusters Italia Siete dove avete Oppure dove organizzate eventi? In tutta Italia? Noi in tutta Italia Sì, in tutta Italia In Roma? Di qualche evento a Roma prossimamente? Prossimamente La zona di Roma Diciamo che con Vi diamo appuntamento Nelle sale cinematografiche Per il 18 e il 19 novembre Dove ritorna Ghostbuster Al cinema In 4K In 4K 4K E quindi Vi aspettiamo numerosi E poi se volete appunto Anche iscrivervi Perché noi Abbiamo la possibilità Di iscrivervi Alla nostra associazione Andate su GBItalia.it Dove c'è la possibilità Di diventare Dei veri acchiappafantasmi Benissimo E servo a Romics Porecchi fantasmi Qui a Romics Sono degli zombie Sì, ho visto stamattina Passare uno zombie Fantasmi sinceramente Non li ho ancora visti Comunque sappiate Se li vedete Siamo pronti a credere in voi Ghostbusters Italia Sempre qui www.gbitalia.it Diventa Un socio del nostro fan club Avremo Avrai una possibilità Di fare carriera Nel mondo di Ghostbusters Italia Quindi Partire dallo stand Arrivare a un costumer Vero e proprio Riuscire a farti Il costume Da Ghostbusters Tra l'altro Come diceva prima Max Che parlava Della clippard Perché Nel 1984 Quando hanno fatto I film Il Danny Croyd Che è quello Che bene o male Ha studiato Un po' Il design Degli design Protonici Ha utilizzato Dei pezzi Realmente esistenti Tipo quelle lì Le clippard Che diceva Max Sono delle valvole A pressione Che servono Tutte delle cose E per farlo Un pochino Più realistico Hanno deciso Di utilizzare Strumenti veri Benissimo Voglio farmi un test Di che cosa Facciamolo Vediamo Questo mini gioco Fa parte del corso Che facciamo Il corso base Per diventare un Ghostbusters Chi ha visto il film Si ricorderà Che c'è una scena La scena iniziale Dove c'è il dottor Venkman Che fa un test Delle carte ESP Al malcapitato di turno Dando delle scosse elettriche Noi per fortuna Non diamo scosse Non centrare E cercare di capire Qual è Esatto Il gioco consiste nel riconoscere Tramite telepatia Tramite telepatia Il seme della carta Quindi lui adesso Penserà la carta E tu dovrai indovinarla Vediamo se ci riusciamo Che cazzo è questa Circhio Circhio Ha funzionato Guarda Sono un fantasma Un fenomeno omologato Sono un fantasma Un fenomeno omologato Ho fatto qualche cosa Ho fatto qualche cosa Sono tutti rinnessi Non c'è trucco Grazie Ghostbusters Eccoli qui Quando uno fa Il minigioco con noi Poi gli rilasciamo Un attestato Adesso lo rilasceremo Anche a te Un attestato Un attestato Vediamo Grazie Pasterds Prego